Una nota che era stata annunciata e il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, ha mantenuto la promessa. Il primo cittadino ha infatti trasmesso un esposto al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al presidente della Commissione regionale trasporti, Luca Cascone, ma anche ai responsabili delle forze dell'ordine presenti sul territorio isolano, dopo i gravi fatti accaduti lo scorso 6 marzo sul traghetto Benito Buono, dove due camion nel garage finirono con l'abbattersi su altrettante autovetture, una delle quali dell'arma dei carabinieri. Il primo cittadino ricorda innanzitutto che quel sinistro provocò non pochi danni e solo per un caso fortuito nessuna vittima, e poi in qualità di sindaco rappresenta ancora una volta quanto la presenza sull'isola di questi autocarri sia fonte di pericolo e disagio per la cittadinanza sin dal loro imbarco per la terraferma. «Mezzi di tali dimensioni e di tale peso, scrive Giosi Ferrandino, sollecitano le strade isolare in modi insostenibili per la pubblica e privata incolumità, generando non solo traffico, inquinamento e rallentamenti, ma anche danni strutturali agli assi viari. Non è un caso, infatti, che in determinati tratti sia totalmente vietata la circolazione di tale tipologia di mezzi, misura prevista anche da apposita ordinanza. Per questo motivo il sindaco chiede una riconversione del parco autocarri, che siano più piccoli, ecologici e dalle caratteristiche idonee alle particolarità dell'isola d'Ischia, chiedendo un incontro e collaborazione istituzionale finalizzata alla soluzione della problematica».